Di dove siete? Noi siamo vicino Varese. Che cosa vi apportate a Fano? Noi è praticamente 25 anni che veniamo a Fano. Mio marito era venuto per lavoro e gli è piaciuto e da quando abbiamo avuto i bambini siamo sempre venuti qua. Che cosa vi piace di più in assoluto di questa città? È una città molto tranquilla e si sta bene. Tutto perfetto per noi perché veniamo per riposare, quindi è ideale. Quest'anno le mucillaggini sono state una brutta sorpresa. Sì, però ad esempio io il bagno l'ho sempre fatto tranquillamente perché non è una mucillaggine che dà fastidio addosso quindi si esce, si fa la doccia, tutto a posto. Anch'io vengo in realtà qui proprio per staccare da qualunque cosa. Riposo assoluto. Esatto, totale, più totale perché poi alla fine qua mi piace anche solamente stare un po' con i miei, tranquilla, senza troppe fretta. Poi in realtà io nella mia vita studio a Bologna quindi diciamo che è la mia sorta di uscite, amici e tutto il resto ce l'ha tutto il resto dell'anno quindi anche se io per due settimane sto a casa senza fare niente sono contenta. Che cosa ti piace di più della nostra città? Ma anche a me piace la tranquillità. Poi soprattutto diciamo che da piccola andiamo sempre a fare tutte le cose di sport, divertenti qui quindi l'ho un po' collegata a questa sorta di divertimento con la famiglia quindi per me è questa la cosa che mi piace. Una milanese a Fano, come si trova? Benissimo, mi piace molto venire qui. Non è la prima volta che vengo perché ho conosciuto Fano grazie a mio marito. Lui ha degli amici che vengono qui da una vita, sono cresciuti qui e quindi quando abbiamo iniziato a uscire insieme, ancora da fidanzati, abbiamo iniziato a frequentare Fano. Ci piace sempre ogni tanto ritagliarci qualche giorno per venire qui e godere del mare vedere anche amici e passare un po' di tempo in relax. Anche se quest'anno purtroppo c'è stata la brutta sorpresa delle mucillaggini. Sì, però tutto sommato noi perlomeno siamo arrivati da pochi giorni quindi comunque siamo stati anche abbastanza fortunati siamo riusciti a fare il bagno e ci si gode lo stesso il mare e le vacanze. E tante cene. Esatto, soprattutto cene in compagnia. Che cos'è che le piace di più in assoluto di Fano? Ma mi piace che comunque unisce mare ma anche divertimenti, offre tante attività sia per bere qualcosa dopo cena, fare una passeggiata e quindi è una città che offre tanto. Situazione mucillaggini, quanto ha influito sulla stagione? Beh, diciamo che le mucillaggini hanno influito perché comunque è una situazione un po' insomma che non comporta per la gente una sensazione piacevole andare a fare il bagno. Adesso per fortuna sono andate via, oggi il mare è tornato abbastanza piacevole sia per nuotare insomma che per camminare e quindi speriamo insomma che da adesso in poi la situazione vada sempre di più migliorando. I turisti ci sono? Allora, i turisti ci sono, ci sono, quest'anno diciamo come vacanze sono vacanze un po' più strane perché ci sono molti giornalieri, molti periodici ma per periodi brevi, però il movimento c'è stato comunque anche stranieri sono ritornati, quindi da insomma possiamo dire che la situazione è stata abbastanza positiva. Oggi finalmente le mucillaggini non ci sono? Esatto, non ci sono più e speriamo che con questo weekend di pioggia andranno via definitivamente. Perché chiaramente che cosa succede con il brutto tempo? Che l'acqua si muove, quindi c'è più ricircolo, le sposta, le porta via, si disperdono. Da dove viene? Dalla Francia. Che cosa la porta in questa città? Perché mi sono sposato con una fanese, da quando abbiamo iniziato ad avere i bimbi siamo venuti sempre lì ad agosto, a Fano si sta troppo bene veramente, sì sì. Sia la prima volta che sono venuto a Fano perché i miei prima andavano in vacanza a Marotta e poi una sera così per fare una passeggiata sono venuti qua a Fano e si sono rinnamorati del lungomare di Fano che anche secondo noi è bellissimo. Andrebbe un attimino rivista la piastrellatura che è un po' rovinata ma è veramente bello. E niente, noi ci siamo innamorati appunto della città, del lungomare, anche del mare che rispetto diciamo in tanti altri posti dell'Adriatico è veramente bello. Siamo tutti e due di Milano, ci siamo conosciuti su un vecchio sito che andava di moda 17 anni fa e poi io sono venuta a Fano grazie a lui perché appunto lui veniva qua a Fano da quando era piccolo. State insieme e lo segui. Esatto, stiamo insieme da 17 anni e quindi ho iniziato a venire anch'io, anche io mi sono innamorata di questa città. Non so, qualcosa di speciale, non lo so, però ci piace, continuiamo a venire qua nonostante tutto. Che cosa ti piace più in assoluto di questa città? Ma allora, la tranquillità che devo dire c'è ancora rispetto a molte città di mare, è tranquilla e non so, ha quel qualcosa che anche passeggiare la sera, non so, ti dà quella tranquillità, ti rilassi, è quello proprio il bello anche di questa città. Poi vabbè c'è Lido, ti diverti, puoi fare tante cose ma se vuoi anche solo rilassarti, venire qua a fare la vita da spiaggia è bello. Grazie.